Buonasera amici sportivi, ben ritrovati all'appuntamento con A Tempo di Atletica. Il martedì sera siamo qui per la venticinquesima volta in questo ciclo di trasmissioni 2017-2018. Come sempre andremo avanti fino a tutto il mese di maggio per raccontarvi le vicende dell'atletica leggera lucchese, quando dico lucchese intendo della provincia. Questa sera come sempre la trasmissione è articolata in due parti. Nella prima abbiamo, graditissimo ospite, Andrea Lanfri. Buonasera Andrea. Buonasera a tutti. Credo che Andrea non abbia bisogno di presentazioni, lo conoscete benissimo, pluricampione italiano paralimpico. Allora, comincio dall'indoor, 60 e poi 200, 400, poi all'aperto 100, 200, 400. Primatista italiano, credo su tutte le distanze. Sì, ora al momento sì, su tutte le distanze praticate. Quindi diciamo il numero uno indiscutibilmente in Italia, che è finalista ai campionati del mondo, no? Aiutami, sui 100 e sui 200 a livello individuale. Poi medaglia d'argento nella staffetta a 4%. Diceva, tu sei giovane, non so se te li ricordi, Totò e Peppino. Ti ricordi, hai visto qualche fine? Qualcosina, sì. A un certo punto Peppino diceva, Peppino sarebbe stato alla spalla, no? Erano talmente due attori straordinari che è difficile dire chi era la spalla e chi era il comico. Ma diamo pure a Peppino della spalla. A un certo punto diceva qualcosa, non tante cose, e poi aggiungeva, e ho detto tutto. No, nel tuo caso abbiamo detto tutto. No, come va davvero? Bene direi. Sì, 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 tutto bene. L'avvio del 2018 indore è stato? L'avvio del 2018 è stato positivo. Forse anche il diranno. Sì, diciamo che erano nei miei programmi, cioè l'inverno, oltre al piccolo intervento che ho subito nel, diciamo, poco prima di Natale, che mi ha costretto, diciamo, fra virgolette, a stare un po' fermo. Diciamo, non proprio fermo, ma insomma... Vederti fermo te la vedo difficile. A revisionare un po' l'allenamento. Sei stato fermo, almeno qualche giorno sei stato proprio fermo. Ma in realtà fermo totale è un giorno. Un giorno, mamma mia. Perché poi non potevo mettere la protesi sinistra, però mi sono arrangiato un po' in palestra, un po' di esercizi con delle funi, insomma. Abbiamo cercato di trovare una soluzione per mantenere un po' la condizione. Logicamente non potevo correre, però facevo un po' di bici con, diciamo, con una gamba sola e un po' di ciclette, sto parlando. Quindi abbiamo un po' rivisto l'allenamento, però proprio fermo, 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 no, non ci sono mai stato. Quindi, considerando tutto questo, no? E poi ti saresti aspettato, roba di, mi sembra, un mese fa, forse neanche, ti saresti aspettato questi risultati a campionati italiani di Ancona? Beh, aspettato no, le speravo, diciamo. Più che altro sulla lunga distanza, era quella che quest'anno mi piacerebbe fare il debutto internazionale sui 400, sì, quindi era quella che mi piaceva avere un bel risultato. Ti incuriosiva anche capire quello che potevi fare. Sì, 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 senz'altro. Indoor, considerando che sono due giri, quindi sono quattro curve, no? Sì. Quanto hai fatto? 54? Ho fatto 54 e 11. Ma è quello che è importante, mi sembra, anche il miglioramento. Sì, l'anno scorso, l'ultimo 400 che avevo fatto, sto parlando di fuori, cioè all'aperto, avevo chiuso in 53,80. Quindi, eguagliando l'Indoor di quest'anno a 54. Paragonandolo? Paragonandolo. Eguagliando il tempo che andrebbe sotto quel 54,30. Sì, esatto. Perché capite che Indoor, dovendo fare due curve, è chiaro che insomma... Oltre, sì, diciamo anche... C'è una, due, no, quattro curve. Quattro curve. A condizioni normale è già critica e con due protesi posso assicurare che i due e i quattro sono una morte, è veramente micidiale perché la lama non appoggiando completamente sul suolo tende a spingerti, a farti cadere verso l'interno. Indoor sta parlando delle prove Indoor? Sì, 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 sto parlando delle prove Indoor. All'aperto, diciamo, è relativamente... All'aperto questo problema non c'è. Mi stai dicendo che è quasi una passeggiata. Sì, rispetto a Indoor, per noi bilaterali con le protesi, sì. È cambiata anche la classe, non sei più un T43 adesso, cosa sei? Sì, ci sono stati vari, diciamo, assestamenti che hanno causato poi anche dei vari cassini generali. T62, che in sostanza poi alla fine non ci cambia niente, però è soltanto... Hanno rivisionato alcune categorie. Noi in attesa di immagini di nuove imprese, abbiamo anche qualche immagine di repertorio dal Golden Gala di Roma dove ti mettesse in grande evidenza, ai campionati del... Ecco, ce l'hai già detto, ma l'esperienza di Londra indubbiamente è stato il momento più alto di un 2017 pure per te, eccoti qua, straordinario. Sì, 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 è stato l'anno che ti ha consacrato come numero uno in Italia, come uno che già a livello internazionale se la gioca, no? Anche se questi sono tutti atleti... Sono atleti di... Fantastici, probabilmente che si sono presentati anche con un'esperienza... Beh, certo, sicuramente. ...molto superiore alla tua... Non so di preciso, ma al minimo due o tre mondiali alle spalle. Anche un'Olimpiade avevano, sì, certo, quello sì. E tu eri al debut? Sì, veramente la prima, bellissima emozione rivedere lo stadio, poi quando sono entrato per la prima volta nella semifinale Decento, dove i giorni prima non volevo entrare dentro perché era una cosa micidiale. Si parla di quante persone? 40, 50? Ma la finale Decento erano su 60.000 persone, alla finale Decento, che era proprio la gara più... Il giorno con il picco di presenze. I cento, senti, vedendo queste immagini, rivedendo queste immagini, i cento mi sembra che ti sono diventati un po' troppo corti. La tua prospettiva è più sui duecento e forse ancora di più sui quattrocento. Al momento la gara che mi piace proprio di più sono sempre due, comunque i quattro, sì, anche quella penso che poi sarò sui punti di forza due e quattro. I cento è un pochettino più sacrificata, diciamo, per le mie caratteristiche, ecco. Ecco, qui siamo sui duecento. Senti, ma se ti dico che ci sono più di due anni alle Parolimpiadi di Tokyo, tu cosa ne rispondi? È che sono pochi, perché c'è talmente tante cose da... Sono pochi, eh? Non sono tanti, dici. Non sono tantissimi, perché il tempo passa veramente veloce. Anche ora la preparazione è finita e siamo alle porte delle prime gare, quindi c'è il tempo veramente velocissimo. Senti, è cambiato qualcosa anche per quanto riguarda le misure delle protesi. E questo al momento, non dico a te, ma in generale agli atleti paralimpici italiani, sta creando, è paradossale dirlo, è assurdo dirlo, ma sta creando qualche problema per il semplice motivo che ancora non avete queste protesi a disposizione sulle quali provare, sulle quali allenarvi, sulle quali trovare la giusta confidenza, no? Sì, c'è stato, rispetto a queste nuove categorie, una nuova classificazione in base alle altezze. Sarebbe una regola, si chiama MESH, che riguarda noi bi-amputati, quindi bilaterali. Questa nuova misurazione hanno cambiato una formula di calcolo, dove prima era sproporzionata nel senso opposto, ovvero che davano un'altezza troppo esagerata. Per farti un esempio, io nella mia altezza reale, cioè coi piedi veri, ero 1,72, io ora corro con 1,75. La MESH che mi avevano dato, cioè l'altezza massima, era 1,82. Mamma mia. Quindi era veramente sproporzionata. Quindi 10 centimetri di differenziale rispetto a quella che era la tua altezza. Io so quanto ero alto, quindi abbiamo cercato di fare un'altezza per non sproporzionare quella forza. Ora invece è la cosa opposta. Sono andati sotto l'altezza che un atleta è, ovvero sono a 1,68 e mezzo, circa 1,69, il MESH che mi è stato imposto. Ma perché tutto questo? Non so, dirti la... No, non ci sono, cioè non saprei veramente... Quindi per te che era 1,72, 1,60... Per l'atleta che era alto 1,80 per dire sempre... Sono calati tutti, sono calati tutti, sì. Sono calati tutti. E poi senza considerare che poi la lama in corsa è ancora più bassa. Io per esempio all'altezza di ora, su 1,75, quando corro la lama si schiaccia dai 8 ai 10 centimetri. Quindi automaticamente... Sì, perché ti riflette, logicamente. Quindi vada ancora più giù. Quindi in corsa è ancora più bassa l'altezza. Questo cosa può comportare secondo te? Ma al momento sta comportando un casino al livello di adattamento della protesi. Perché tutte le protesi, cioè le lame, diciamo, competitive, non possono scendere sotto 8 parametri. Perché inizia dall'attacco, inizia la curvatura della lama. Quindi uno non può fissare l'invaso dove non c'è l'attacco. Quindi crea una serie di disguidi a livello di ortopedici, diciamo. Sul fatto che alcune marche competitive stanno operando a questo problema, però sono in corso. Quindi non sono ancora state né divulgate né commercializzate. Problemi che ovviamente non hanno all'estero. No, anche all'estero. Sì, sì, sì. È un problema generale, sì. Senti, visto che il tempo corre veramente più veloce di quanto potessimo pensare, come l'hai detto prima, parlando delle Paralympie di Tokyo. Invece il 2018 per te, al di là di questo bello abbrivio con i titoli indoor nel 60, nel 200, nel 400, cosa offre, cosa propone? Quali sono i momenti in cui dovremo seguirti? Beh, spererei un europeo a Berlino nel fine agosto. Le date, se non sbaglio, è 20-25 agosto. Siamo appunto a Berlino, dove mi piacerebbe fare i 100, i 2, i 4 e la staffetta. All'Europeo quanti ne ritrovi di questi grandi campioni? Eh, quasi tutti, a parte gli americani. Qui c'è il Golden Gala di Roma. Qui c'è il Golden Gala. Ti mettesti discretamente... Eh sì, ma anche questi li ritrovo tutti. Ma gli europei, vabbè, gli americani non ci saranno. Gli americani no, però ci saranno i tedeschi che sono forti, appunto alcuni di questi qui del Golden Gala. E poi, non so, magari... Ma c'è un'aspirazione, al di là della staffetta, dove avete dimostrato di essere già fortissimi, a livello individuale, c'è un'aspirazione di salire anche sui soldi? Sì, sì, certo. Sui due? Sui due. Sui duecento, eh? Sì, 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 sarebbe il mio, diciamo, obiettivo. Diciamo che gli obiettivi dell'anno scorso, prefissati a gennaio-febbraio del 2017, li ho rispettati tutti al centesimo, quasi. Se rispetto questi di quest'anno, sarebbe un bel traguardo. Un'ultima cosa, tu gareggi per la Virtus Duke, ovviamente, come società civile, gareggi per le Fiamme Azzurre, come società militare, mi dicevi che prossimamente pensi di fare un salto giù anche a Roma, stare giù un po'... Sì, 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 ogni tanto faccio una... Sì, giù a Casal del Marmo per fare una sessione di allenamento, diciamo, mi piacerebbe andare giù circa una settimana al mese per dedicarmi principalmente e solamente all'allenamento. Adesso, naturalmente, ti alleni qui al Moreno Martini, ti chiedo una cosa che riguarda anche la squadra di Matteo Martineri, come li vedi, come li senti a... fra un mese e poco più cominciano anche loro... Io con ragazzi che... L'obiettivo, lo sai, di Modena, no? Certo, certo. Di fare la finale Oro, se fosse possibile. Io, cioè, mi alleno con... Eh, non so, alcuni ragazzi, tipo Fabio, eh, siamo molto carichi. Questo, la sera, gli allenamenti ci si supporta a vicenda. Questo negli allenamenti più duri, quelli quando arrivi in fondo che veramente sei K.O. Quindi avere anche un supporto fra di noi è... Intanto, mi dicono, ti fai anche qualche scalata ancora. Sì, 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 quello... Non hai perso l'abitudine. No, no, anzi, quest'anno ci saranno alcune grandi salite riguardo all'arrampicata, alcuni grandi eventi. Tipo? Tipo, subito dopo l'Europeo, non prima perché se no... Mi raccomando, eh, mi raccomando, non facciamo scherzo. Mi uccidono, ma dopo l'Europeo ci sarà... Tenterò, ma voglio riuscire, insomma, a tutti i costi, alla cima grande delle trecimila varedo. Accidenti, accidenti. Il fine, siamo proprio in chiusura, primo appuntamento a fine maggio con... Fine maggio, di 18-20 maggio a Rieti, sì. E lì sarà già un primo... Serve per fare i minimi per Berlino. Ho capito, va bene. Andrea, ti ringrazio di essere stato con noi. Ti seguiremo con grande affetto e con grande calore anche in questa stagione 2018. Rimani lì perché subito dopo la pausa pubblicitaria noi ci ritroviamo, parleremo ancora di atletica con gli amici dell'Atletica Pietrasanta e con questo meeting che c'è stato proprio domenica mattina al campo di atletica di Marina di Pietrasanta. Tra poco. Allora, eccoci tornati. Intanto vado a presentare gli ospiti dell'Atletica Pietrasanta a Versilia. È tornato a trovarci Ruggero Viacava. Buonasera, Ruggero. Buonasera. E con te due baldi giovanotti, categoria cadetti e ragazzi. Andrea Ruttili. Buonasera, Andrea. Buonasera. E Tommaso Bazzichi. Buonasera. Buonasera anche a te, Tommaso. Io devo subito correggermi. Ho detto, insomma, le gare delle categorie ragazzi. Ho detto domenica, ho detto domenica, in realtà era sabato pomeriggio. Sì, ma è lo stesso, weekend. No, no, vabbè, tra l'altro ora vediamo anche delle immagini e tutto quanto. Allora, Ruggero, come è andato questo meeting? Come lo vogliamo chiamare? Questi campionati toscani? Sono fasi del campionato di società per la categoria ragazzi. Siccome nella categoria ragazzi ogni regione fa un po' come gli pare, la regione toscana ha elaborato questo programma di gare dove tutti i ragazzi volta per volta cambiano gare, gareggiano in tutte le discipline e si scambiano anche le province in modo da poter gareggiare con tutti. Questo comporta magari qualche problema logistico, però dal punto di vista della formazione, dell'esperienza, sicuramente è meglio di gareggiare sempre con i soliti compagni della provincia. Ah sì, c'è un modo di confrontarsi anche con gli altri ragazzi della tua età che in questo caso arrivavano, mi sembra di capire, da tutta la Toscana. No, arrivavano da Prato, Massa, Lucca e Pistoia. Quindi diciamo le province nord-occidentali. Trato, devo dire, siete stati anche fortunati voi a livello organizzativo, i ragazzi che hanno dovuto gareggiare perché è stata una delle poche belle giornate dell'ultimo periodo. Sì, abbiamo trovato proprio una finestra che ci ha permesso di gareggiare con tranquillità, col sole, senza tanti problemi. Questo è il lancio del Vortex che è famoso a livello giovanile perché è quello che a quest'età va a sostituire quello che poi potrebbe diventare il giavellotto. Questo è il nostro Bazzichi che ha lanciato. Allora gli diamo il microfono, visto che l'abbiamo visto. Tommaso, com'è andata? Beh, abbastanza bene. Sono contento di essere arrivato quarto, mi aspettavo più di arrivare terzo, però sono contento lo stesso. Senti, sei giovanissimo perché sei già molto alto, però di che classe sei? Prima media, del 2006. 2006, quindi hai neanche 12 anni? No. Neanche 12 anni. Quanto è che fai atletica? Quattro anni. Quattro anni. E com'è che hai detto vado a fare atletica invece che so che è un altro sport? Hai scelto, per esempio il calcio o altri? Visto che sei piuttosto alto, il basket, non lo so. Mi ispirava ogni tanto anche la tv, guardavo quelle corse e quindi mi ha ispirato a fare questa atletica. Ah bella questa, nessuno ci ha mai risposto questo, che guardando la tv qualche campione particolare, qualche gara particolare che ti ricordi, no? No, però hai visto il fascino della pista, questi stati con decine di migliaia di persone ti ha entusiasmato, via, l'ho capito. Chi sono i tuoi allenatori? Ti segue Ruggero direttamente, no? Sì, Ruggero e Stefano. Poi c'è Stefano, Stefano Telare è venuto. Stefano Telare, sì che quando abbiamo proposto il servizio l'altro giorno lo abbiamo anche visto, lo abbiamo anche visto. Tanto possiamo continuare a vedere delle immagini, allora qui categoria ragazzi e cadetti c'erano qui. Allora lì era una gara del campionato di società categoria ragazzi, noi abbiamo inserito un paio di gare cadetti, gli 80 maschili e femminili e 1000 maschili e femminili, non so se dopo sono stati ripresi, perché i cadetti hanno già fatto una gara a Grosseto due weekend fa, ora gareggiano il prossimo domenica mattina a Marina di Carrara e via via ora poi cominceranno anche più grandi, a fine mese iniziano anche le gare dei più grandi e siamo proprio in piena attività perché tutti, questo sono io, ti toccava fare anche da giudice, da giudice da rilanciare il Vort, insomma quando ci sono queste gare giovanili ci si adatta a fare tutto. Della categoria ragazzi, proprio categoria, no della categoria cadetti c'è Andrea Rutili, Andrea, allora diamo il microfono ad Andrea, ecco qui vediamo anche alcune fasi del salto in lungo, allora Andrea, tu invece hai gareggiato pure qui, no? Sono gareggiato. Cosa hai fatto? Ho fatto gli 80 metri insieme ai gemelli politi, i gemelli politi sono gli altri ragazzini. Gli hai spolverati? No, a dire la verità, no, ma perché sono più grandi di te? Sì, sono più grandi e anche l'altezza conta un po' soprattutto nelle gare di velocità. Però gli puoi promettere che hai l'aria furbetta, gli puoi promettere, tanto loro ci seguono penso, che prima o poi li spolveri. Certo, certo. Questo è bello, ma hanno vinto loro, ha vinto uno di loro, no? No, 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 ha vinto un ragazzino molto forte, molto dotato dell'Atletica Alta Toscana, di Montignoso, Massaro, non so di preciso di dove, dove è. Ma quelle parti hanno una bella tradizione nella tua città. Ora, come traggio manuale, Benedetti. Benedetti ai tempi di, noi parliamo di tempi di, loro dicono, ma di che parlano? Ai tempi di Pietro Mennea. Sì, lo conosco, Pietro Mennea. Questo mi fa piacere, che lui abbia detto stasera che ha visto le gare in televisione, che l'hanno appassionato, che anche così piccoli, ci mancherebbe altro, Fatta Atletica, Pietro Mennea è, come potremmo definire, Ruggetto, un'icona, un qualcosa di… Senti, allora, andando avanti con te, Andrea, tu invece quant'è che fai Atletica? Io ho iniziato l'Atletica dalla prima elementare, però per un breve lasso di tempo ho fatto due anni di calcio. Ci ha tradito, ci ha tradito. È rivelone, calcio, voglio dire, è riveloce. Sì, ero il più veloce della squadra, infatti mi mettevano sulla parte veloce l'ala, però ho avuto qualche complicanza durante il secondo anno con il mister e anche il problema di far giocare oppure il contatto con i giocatori, che non è uguale all'Atletica, il calcio. Diciamo che è un po' un ambiente più, diciamo, meno rispettoso rispetto all'Atletica. Oh, accidenti, senti cosa ci sta dicendo questa sera Andrea. Eh beh, insomma, sono cose importanti e significative quelle che hai detto. Quindi calcio da parte, Atletica. È chiaro che c'è una competizione molto più forte, non agonistica, ma è una competizione proprio per entrare in squadra. C'è più competizione, non è venuta la parola, ma è quella che... A volte, insomma, si va anche al di là di quello che è il confronto naturale che ci deve essere fra i ragazzi. Poi c'è sempre questa componente dei genitori che entrano a gamba tesa sulle questioni, non si intromettono sulle scelte degli allenatori, però è un mondo che dovrà risolvere questi problemi per conto suo. Noi, per fortuna, non ce li abbiamo. Qui, da noi, se uno ha passione e gli piace, gareggia. Poi arriva ultimo, arriva primo, arriva come gli pare, però, insomma, fa la sua attività normale. Nessuno gli dice che non gareggi oggi. Almeno questo noi ce l'abbiamo di bello. È stato chiaro quello che ho detto Andrea. Questo è il nostro presidente. Sì, anche lui vedo che si... L'avete fatto lavorare. Andrea, vedo che tu fai velocità e salti. Sì, io sono un saltatore e un velocista. Questo è il gruppettino nostro. Ti senti più saltatore o velocista? È una bella domanda perché, a dire la verità, il saltatore è un pochino... La tecnica è un po' più difficile della velocità, perché nella velocità allo sparo si inizia a correre, però anche Ruggero alcune volte mi dice che sono abbastanza, diciamo, difficili da maneggiare, nel senso che bisogna imparare tutta la tecnica del salto, la rotazione delle braccia e il tempo di stare in aria. Fai il salto in lungo? Sì, faccio anche il salto in lungo. Per ora sì, poi si farà anche tutto il resto, perché anche lui ha la mamma molto alta, il babbo alto, quindi crescerà. Eh, d'altronde tu invece, Andrea, sei un 2004, quindi hai 14 anni. Sì, sì, prima anno di categoria. Non ancora, ho capito, quindi vediamo un po', dai. È chiaro che a questa età Ruggero è sempre un po' problematico dire farà questo o farà quello. No, magari si intravede già una fascia di gare che probabilmente ci daranno quella poi preferita. È chiaro che lui non sarà un lanciatore di martello, insomma, è chiaro che non sarà un lanciatore. Si intravede già, però si lascia aperta un po' la porta ad altre discipline. Sei un velocista va bene, però facciamo anche un po' di salti, se sei uno abile facciamo gli ostacoli. Poi crescendo si vede quale specialità sarà più piacevole, perché poi bisogna farla con piacere e che ci porterà dei risultati più agonisticamente validi. Peccato che non farai il lancio del martello, perché se hai quelle parti nel lancio del martello avreste dei buoni maestri, no? Tornerai un attimo a Tommaso per chiedergli. Allora, Tommaso, prima media, ma ti sei già fatto un'idea di cosa vuoi fare da grande? Ora parlo di scuola, al di là dell'atletica e di quello che... Microfono più vicino però, se no non si sente. Sì, vorrei andare all'Agraria Luca, perché a me da piccolo anche mi ha sempre ispirato la natura e quindi vorrei fare... Vuoi diventare un perito agrario, via. Sì. Occuparti della natura, della coltivazione delle piante, di queste cose. Sai che qui a Mutigliano, tra l'altro, è una scuola anche apprezzata da tanto tempo, quindi... Bene, complimenti. E invece per quanto riguarda Andrea, tu hai... Passiamo il microfono. Tu hai l'esame quest'anno, l'hai detto. Sì, infatti proprio domani inizierò gli invalsi di italiano. Inizia? Gli invalsi di italiano. Gli invalsi di valutazione della scuola. Io una volta sapevo che c'era l'esame. Gli invalsi, è un test che viene fatto a livello europeo nella scuola per la valutazione non dei ragazzi, della scuola. Ho capito, e sono rimasto indietro, perdona. Vabbè, andiamo bene, sì, non ci sono problemi. Sì, sì, vado abbastanza bene. E per il futuro, il prossimo anno si va alle superiori, eh? Sì, al liceo, non so, da grande volevo fare o l'attore o il comico. O l'attore o il comico. Allora, lo possiamo parlare in primo piano. Sul comico si va sulla storia. Allora, io ti do un suggerimento, però mi devi giurare che poi lo fai, che poi chiederò a Ruggero se l'hai fatto. Devi andare a cercarti un film, che si chiama C'era una volta in America. È un film, un capolavoro, un film di 30 anni fa, con Robert De Niro. Ma tu devi cercare, perché lì racconta la vita di questi piccoli gangster all'inizio del Novecento a New York. È un film stupendo. Devi cercare uno degli amici del protagonista. È un ragazzino che vedrai, lo vedrai, occhi azzurri, ti somiglia tantissimo. Quindi l'aspirazione di fare l'attore, perché no? Vai a vederti C'era una volta in America, quando ci sono, all'inizio del film, c'è la storia di questi... Che poi diventano grandi, però da ragazzi. Vedrai, c'è uno di questi che ti somiglia tantissimo. Va bene, dai, siamo... Promesso, ci devi andare, mi raccomando. Va bene, Ruggero, cosa vi aspetta velocemente adesso, a parte l'organizzazione di questa prova? No, questa ormai l'abbiamo messa in cantiere. Abbiamo organizzato due gare a Pietrasanta, sempre con le solite difficoltà, che non riapro la parentesi, insomma, triste, sull'efficienza dei campi in Versilia e nella Lucchesia tutta. Sabato si gareggia con i ragazzi a Marina di Carrara. La domenica mattina invece Cadetti, con tutte le province della costa, da Massa a Grosseto. La prossima settimana inizia... Già al sabato, volendo, c'è una gara a Sarzana anche per l'assoluto, la prima garettina di assaggio. La settimana dopo c'è un'altra gara a Spezia per l'assoluto e il settore giovanile. Cioè, ora, tutte le settimane, ci saranno qualcosa. Eh, sì, sì, ci saranno degli impegni. E fino alla metà giugno, tutte le settimane, saremo impegnati. Devo chiudere, facendo una piccola notazione, hai detto Sarzana, hai detto la Spezia, hai detto qui, hai detto là, però il problema è sempre quello. Da noi, e qui si parla di provincia di Lucca, Pietrasanta, come lo stesso capoluogo qui a Lucca, la Virtus ha lo stesso problema, organizzare gare di questo passo, credetemi, diventerà una cosa utopistica. Perché la realtà è questa, quindi noi da tempo di atletica, poi il disco sarà monotono, fra un po' si romperà, però lo ripetiamo. Siccome qui portiamo anche dei ragazzi molto giovani, che hanno 12, 13, 14 anni, facciamo in modo che gli impianti siano adeguati e che questi ragazzi, al di là di Andrea, che troveremo in qualche set cinematografico, possano veramente fare l'atletica e magari arrivare qualcuno di loro anche a grandi risultati, oppure va bene lo stesso. Grazie a Ruggero Viacava. Grazie a voi. Mi raccomando, guarda che poi lo so se... Sicuro, sicuro. Come si chiama il film? C'era una volta in America. C'era una volta in America, mi raccomando. Roberto e io. Tu, Tommaso, vigila, va bene che lo vada a vedere, poi direi se non ho ragione. Ringraziamo Matteo Bedini, che non fa l'attore, ma fa semplicemente il regista televisivo e grazie a tutti voi a Tempo di Atletica, torna martedì prossimo, sempre alle 21. Buonasera. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.